Ciao! Torniamo in Inghilterra per vedere una maglia di una delle mie squadre preferite, la terza maglia del Liverpool per la stagione 22-23, in edizione player, la maglia dei calciatori. Dopo aver presentato la classica prima maglia rossa e una psichedelica seconda, i Reds diventeranno anche Greens in alcune partite stagionali. Di rosso ci saranno solo gli inserti degli sponsor e alle maniche. La terza maglia Nike Liverpool 2022-23 combina una base verde-acqua scuro con verde-acqua chiaro e sorprendenti loghi rossi. Ufficialmente i colori della terza maglia del Liverpool sono Dark Atomic Teal, Rio Teal Siren Red. Tutti i loghi sulla nuova terza maglia del Liverpool sono di colore rosso brillante, mentre presento una sottile grafica ondulata sul davanti, sul retro e sulle maniche. È una grafica simile, ma non identica, a quella utilizzata sulla maglia da trasferta del Liverpool 2022-23. Pantaloncini e calzetoni verdi completano la terza maglia del Liverpool. Questa maglia è molto bella. Dal video, devo dire la verità, non mi era piaciuta così tanto o non mi aveva entusiasmato così tanto, ma dal vivo è veramente stupenda. E nella mia classifica questa prende 5 stelle, fatta benissimo con un tessuto meraviglioso in questa edizione Player. Al costo che vedete qui sopra, veramente non so che altro aggiungere, se non che, diciamo così, il consiglio è di provare a mettere alla prova il sito e mettere questa maglia nel vostro armadio. I tempi di spedizione sono stati molto veloci, la qualità è ottima e vi ricordo che in descrizione trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti anche quali altre maglie vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione Player. Grazie a tutti!